Però di fatto qual è il risultato? Che alla Camera, ovviamente, dove è possibile un voto disgiunto, abbiamo espresso ovviamente la fiducia, ma al momento del voto finale non abbiamo partecipato al voto. Domani al Senato non è possibile operare un voto disgiunto, quindi con le medesime lineari, coerenti motivazioni noi domani non parteciperemo al voto.